Diciamo così, diciamo una parola di Lucio, sempre sorprendente, non ti lasciava mai, deludeva sempre le tue aspettative, questa è la sorpresa, la sorpresa è la funzione dell'aspettativa, tu ti aspetti qualcosa e faceva un'altra, non stava lì, movimento, continuo Lucio, sul piano sia artistico che sul piano fisico, personale. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine, giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è come ieri, senza allegria. Anche sui treni e gli aeroplani, sopra un palco illuminato, fare un inchino a quelli che ti son davanti, e sono in tanti e ti battono le mani, senza allegria. A letto insieme, senza pace, senza più niente da inventare, esser costretti a farsi anche del male, per potersi con dolcezza perdonare e continuare. Con allegria far finta che in fondo, in tutto il mondo c'è dentro, con gli stessi tuoi problemi, per poi fondare un circolo serale, per pazzi sfrassolati un po' coscemi, facendo finta che la gara sia, arrivare in salute al gran finale, mentre è già pronto Andrea, un bastone cento denti, che ti chiede di pagare, per i suoi pasti mal mangiati, i sogni derubati, i forchi obbligati, per essere stato ucciso quindici volte in fondo a un viale, per quindici anni la sera di Natale.